Il teatro comunale sarà al Politeama, l'ex gaserma Garibaldi diventerà un grande polo culturale, via Spinelli sarà quasi interamente pedonalizzata e l'attuale teatro di Piazza Repubblica lascerà spazio ad altro, probabilmente a redivivo, mercato coperto. Cose già dibattute e decise, ma da oggi orgogliosamente ufficiali, come affermano in coro gli attori dell'accordo di programma avviato dal compianto Bob Maroni nel 2014, cioè Regione Lombardia, Comune, Provincia di Varese e Università dell'Insubre. In questi nove anni di cammino le spese sono a dir poco aumentate, dagli iniziali 25 milioni siamo passati a 40, ma il dado è tratto e indietro non si torna. Credo che sia un giorno importante per Varese, una riqualificazione, una rigenerazione urbana importante. Mentre va in scena l'incontro con la stampa, intorno a noi il cantiere procede a pieno ritmo, in un edificio che ha tanto da raccontare e che in prospettiva accoglierà biblioteca, archivio di mendrisi o sale universitari e altro. Ci siamo seduti al tavolo e continuiamo a esserci. È chiaro che è un lavoro di sinergia che va a portare un valore aggiunto al territorio. Il plauso di Carlo Maria Castelletti, presidente di Fondazione Molina, che è proprietaria del Politeama, è indirizzato proprio al gioco di squadra tra istituzioni, ma anche al futuro finalmente consolidato di una rinnovata vocazione teatrale della città, ansiosa di chiudere una provvisorietà durata 20 anni e gettare solide fondamenta. Finalmente si è deciso di riqualificare il Politeama e unire questo grande progetto culturale legato alla caserma al nuovo teatro cittadino che sarà nel cuore della città.